Prosegue a Milano la rivolta degli stilisti. I negozi Dolce e Gabbana sono al secondo giorno di serrata, per indignazione, c'è scritto sui cartelli in vetrina, e Stefano Gabbana oggi su Twitter prosegue la battaglia contro il municipio. Al comune dice non abbiamo chiesto spazi pubblici. E' tutto per la battuta di un assessore che non sa più come fare marcia indietro. Parlavo a titolo personale, prova a dire Franco D'Alfonso, ma ormai l'incendio è divampato. E' lo stesso che aveva già acceso la polemica sui gelati, intendeva vietarne la vendita nelle ore notturne. Due giorni fa l'assessore incendiario ha detto a stilisti come Dolce e Gabbana il comune deve chiudere le porte, non abbiamo bisogno di farci rappresentare da evasori fiscali. Il riferimento è una condanna per evasione fiscale inflitta a giugno agli stilisti in primo grado. Ovviamente si è scatenato un putiferio. Prima sono arrivati gli insulti di Stefano Gabbana su Twitter, fate schifo. Poi l'annunciata serrata dei negozi per tre giorni. Poi la solidarietà dei colleghi, Beatrice Trussardi, Milano per la moda fa zero, zero, zero. E ora le prime pagine dei principali quotidiani. La fotonotizia sul Corriere, l'editoriale di Vittorio Feltri sul giornale, un circo inarrestabile. Per farsi un'idea stamattina davanti al negozio di Dolce e Gabbana c'erano anche gli animalisti con la loro controprotesta. Indignatevi per gli animali che avete ucciso. E il comune che fa? Minimizzare, serrare le fila, evitare domande dirette. E' questa la strategia dettata dal sindaco, ma gli sforzi per smontare la polemica sono falliti miseramente. Pisapia ci aveva provato a caldo con un comunicato ufficiale che definiva improvvida la battuta dell'assessore. Ieri pomeriggio, a una conferenza stampa su Milano, città metropolitana, le domande erano solo su Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che sembrano decisi, fra l'altro, a restituire l'Ambrogino, il prestigioso premio assegnato ai milanesi che si distinguono. Sindaco, ha risposto anche sulla restituzione dell'Ambrogino? Dolce e Gabbana, in attesa di ulteriori gradi di giudizio, ora si difendono a mezzo stampa. Hanno acquistato pagine sui principali quotidiani per spiegare la loro teoria difensiva, interessante ma inutile, almeno finché un giudice non la riterrà valida. Intanto sui giornali, stamane Prada, un altro marchio storico milanese, annunciava l'apertura di una nuova boutique in galleria, nel salotto di Milano. Sul posto, nessuna festa di inaugurazione, quasi in sordina, in tempi di polemiche.